Gentili telespettatori, buona giornata. Sallusti che ha scritto un libro con Palamara, il sistema che ha venduto anche 300.000 copie, insomma, sono dei bei numeri, c'è anche dietro un discreto guadagno per gli autori. Guardate, facendo anche un calcolo così scemo, se, adesso ipotizzo perché non lo so quanto costa il libro, 300.000 per 15 euro sono 4 milioni e mezzo di euro d'incasso. Mettiamo che gli autori abbiano preso un 10%, sono 450.000, diviso due autori, insomma, 225.000 euro a testa, però attenzione, questi soldi non vanno avanti all'infinito, a un certo punto finiranno le copie vendute, non è che va avanti all'infinito, quindi comunque sia un libro che ha venduto. Per l'Italia possiamo definirlo un best-seller, anche se a livello mondiale per definire un best-seller ci vogliono 15 milioni di copie e quelli sono i best-seller. È un termine un po' abusato in Italia, però visto che i numeri sono più piccoli, il paese è più piccolo, per l'Italia va anche bene definirlo un best-seller. ma Sallusti dice che non bisogna nascondersi dietro facili moralismi e inutili rigide chiusure, perché lui sta appoggiando Luca Panamara alle supplettive nel Collegio di Roma Prima Valle, alla Camera. Realmente non so quanto possa servire l'appoggio di Sallusti, alla fine sono gli elettori che una domenica, il 3-4 di ottobre, andranno a votare e tra le schede si troveranno anche Luca Panamara con il suo simbolo per andare a fare il deputato al posto di uno che è andato via. Lui dice non lo faccio per soldi, ovviamente che lo fa per soldi, ma non può dirlo. Lui dice fino adesso, fino al 4 di agosto, dice Palamara, ha avuto una pensione alimentare di 1800 euro. Adesso è finita, perché è stato radiato definitivamente dall'ordine dei magistrati, quindi da pochi giorni è disoccupato. Potrebbe chiedere il reddito di cittadinanza, finché dura. Ma io nei video precedenti ho detto che è stato un magistrato beccato con le mani nella marmellata mentre combinava, faceva, mentre intercettato, cercava di attaccare Salvini in quanto di centrodestra. Adesso diventa un idolo di parte del centrodestra. Salvini dice ha sbagliato, ha capito, è un figlio il prodigo. Sallusti dice ma basta, facili moralismi, inutili rigide chiusure, perché Palamara con il libro ha scoperchiato il vaso di Pandora di un sistema che soltanto chi ne ha fatto parte può provare ad abbattere. Il sistema è il potere della magistratura che non può essere scalfito. Tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze o magari da un abile cecchino che alla vigilia di una nomina fa uscire notizie e intercettazioni sulla vita privata o i legami di un magistrato o di un politico. Sì, sono d'accordo, Sallusti, ma quando io dico che un personaggio come Palamara, addirittura adesso che deve diventare parlamentare dopo quello che ha fatto, svelato nel libro il sistema, perché il sistema del sistema lui ne faceva parte, era uno dei capi se non il capo e non lo so, di questo sistema, viene beccato e denuncia il sistema. Così è troppo facile. Ha fatto il pentito. Il pentito perché era l'unica cosa che gli conveniva da fare. Non aveva altre strade. Lui subito ha fatto il pentito. Appena è stato beccato ha fatto subito il pentito. e adesso vuole trovare riparo economico in politica con il classico classica poltrona da deputato da 13.000 euro al mese. La mia non è un facile moralismo come dice Palamara, come dice Sallusti. È un reale moralismo. La mia non è un'utile rigida chiusura. È una chiusura voluta, non rigida, ma deve esserci una chiusura. Una persona come Palamara non può avere spazio in politica, non può avere aiuti da altri, deve adesso cercarsi un lavoro come fanno tutti gli altri. Ha sbagliato e cosa facciamo? Lo premiamo perché ha scritto il libro, lo premiamo con un seggio in Parlamento. Non mi sembra proprio il caso. Sallusti che è uno molto duro, bacchetta a tutti, Palamara no perché hanno scritto il libro insieme. perché ci hanno fatto sui soldi insieme, perché siete diventati amici, perché ti ha fatto capire che lui ha avuto il coraggio di mettersi contro il sistema. E certo, l'avevano beccato, lo stavano radiando. Chi non avrebbe avuto il coraggio? Eh, dice a sì, mi state radiando dicendo che sono solo io quello che non va bene nella magistratura? Beh, adesso ve lo racconto in un libro. Ecco, non mi sembra questo grande paladino di chissà che cosa, eh, non mi sembra proprio. Lui addirittura sta cercando di far passare il messaggio che lui non ha fatto niente, che lo capiranno gli italiani che lui non ha fatto niente, è stato vittima di un sistema. Il ribaltamento della frittata aiutato da Sallusti. Bah! Veramente incredibile. E poi dice in realtà vediamo che da 30 anni quando irrumpe sulla scena politica la rabbia giustizialista del pool di manipolite le vittime non sono state solo politici o magistrati ma anche semplici cittadini a cui nessuno risarcirà più una vita ma dove vogliamo andare a parare? Che adesso Palamara è una vittima del sistema? Che un giorno dovremmo anche risarcirlo? Ci sono delle intercettazioni chiare, ci sono delle prove chiare della magistratura. poi il fatto che volesse attaccare Salvini un ministro eletto dal popolo nel pieno delle sue funzioni io l'ho sempre detto quello è un attacco agli organi democratici di uno Stato fatto da uno o più magistrati che dovrebbero essere un organo indipendente che i padri costituenti hanno voluto appunto indipendente per salvaguardare la democrazia e questo e altri si uniscono per attaccare un ministro nel pieno delle sue funzioni per ribaltare l'ordine democratico stabilito dalle elezioni per me è gravissimo e c'è Sallusti che lo idolatra e c'è Salvini che dice il figlio il prodigo secondo me non ci siamo proprio non ci siamo qui non ci sono manco le basi io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata che un'imperi che un'imperi si si Grazie.